Sì, il vertice si è concluso poco fa, un vertice prefettura, regione, comune, anci, questura, protezione civile proprio per questo motivo, cioè preparare la presa in carico e poi l'accoglienza dei profughi che arrivano dall'Ucraina, come sappiamo praticamente tutti, donne e bambini. Un vertice che ha intanto come primo scopo, come primo obiettivo tracciare, intercettare tutti i flussi, cioè sapere chi arriva, perché in questo momento non lo sappiamo, si parla di un migliaio di arrivi ma sappiamo bene che la cifra è sicuramente sottostimata, l'obiettivo invece è sapere chi arriva anche incrociando i dati con l'ambasciata ucraina. E poi questo serve a conferire la protezione temporanea, una modalità che l'Unione Europea aveva già istituito una ventina di anni fa ma che non aveva mai messo realmente in pratica, questa è la prima volta. Si tratta di un permesso di soggiorno di 12 mesi più 12 rinnovabile che viene dato a chiunque arrivi dall'Ucraina, anche non ucraino, senza vagliare caso per caso come invece avviene normalmente negli altri casi. Questa protezione temporanea ha lo scopo di dare assistenza, assistenza sanitaria ma anche scolastica e qui è molto bello anche la ricerca della scuola più vicina all'indirizzo dove i bambini e le bambine andranno a vivere a Roma ma in tutto il Lazio, questo vale poi per tutta la regione. Il prefetto Piantedosi parla di clima positivo, di voglia di fare molto vasta ma mentre qui in prefettura si parlava dell'accoglienza, pochi metri da qui in piazza del Campidoglio la comunità di Sant'Egidio organizzava un'altra manifestazione per la pace, questa volta con protagonisti i bambini della scuola media, i ragazzi della scuola media.